dietro sedere dietro sedere bravo 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 è una rottura di scatola quel lavoro qua però fa bene restare solo un po' indietro col sedere un pochino grandina non ci sta cioè gli ho detto non fagli far fugo ma gli ho detto che ho prima ti passa a forestare comunque a noi così facciamo la figura tre volte peggio bravo 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 grazie a tutti